Cultura e formazione politica sono questi i due temi attorno ai quali ruota la proposta elaborata dalla Curia di Campobasso, un ciclo di cinque incontri dal titolo Dialoghi con la politica. Un percorso, un laboratorio, come sottolinea Monsignor Bregantini, destinato agli amministratori locali, ai sindaci e ai consiglieri regionali, un contributo alla luce della Bibbia capace di indirizzare la politica verso il bene comune. Vuole essere un modo per far sì che la politica rimanga sempre nel solco del bene comune a servizio del popolo. Il potere va guidato sempre, va accompagnato, va verificato, a tratti va anche ben capito perché non divenga strapotere. Ho suggerito in cinque incontri che sono rivolti proprio agli amministratori locali, ai consiglieri regionali, alle realtà locali del territorio, a livello di politica. Un po' a tutti coloro che sono interessati a queste cose ho chiesto di confrontarsi. Il ciclo di incontri cade in un momento di attualità drammatica rappresentato dalla guerra in Ucraina ed è destinato ad avere una proiezione di lungo termine rappresentata dalle elezioni politiche regionali della primavera 2023. Io mi auguro che da questo incontro, di queste serie di incontri, di cinque incontri, nasca un progetto etico, non politico diretto. Etico che dice al politico di oggi cosa è importante fare e cosa è importante non fare. La domanda è se vince perché si ha più armi o si ha più sapienza ed è attualissimo nel dibattito proprio di questi giorni in Parlamento dove si chiedono le stesse cose. È giusto o no mandare armi? Non è l'arma che aiuta il piccolo Davide a vincere il grande Golia, ma è la mano di Dio, la strategia.